Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video, ti parlerò della nuova funzionalità INPS per la rinuncia al congedo straordinario. L'INPS interviene sulla domanda online di congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità. In particolare, l'INPS annuncia la realizzazione della nuova funzionalità RINUNCIA per consentire agli utenti di comunicare, attraverso lo sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata. La comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Se ti è piaciuto il video e lo hai trovato interessante, clicca Mi piace e iscriviti al canale. Grazie per l'attenzione!